Ciao amici e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qua su Life is Strange, lo so che non lo porto da tanto tempo Vi prometto che lo porterò un po' di più E che abbiamo così tante serie che poi vi piacciono tutte quante allo stesso modo Quindi non so quali portare insomma Se mi consigliate sotto nei commenti magari nel prossimo video quale serie volete Io ve la porto Insomma un episodio della serie ovviamente che facciamo Se no alla fine preside, parla, parla Voglio cliccare, ok No Eh vai vai Parla Oh striscione Dove essere sempre il caso What's up? Hello Zach Supo Max It's weird to not see you without your camera I'm always taking pictures with my eyes I bet As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sext and Victoria I won't That's what Victoria wanted Yeah I know that she kind of set up her own drama Even if it fucks her over Weird She doesn't have to though That's what I don't get at all When she's hot, rich, talented What more does she need? Anyway See you at the game Friday, Max Ha ragione Zachary Ha ragione Trofeo, trofeo Ah già Ah vabbè Non credo ci interessi Se volarmi qualcuno o no Con lui no Con Courtney Aspetta Andiamo un po' If I was normal I'd be super excited about going to a major shindu Di varietà del mondo Piscina Black Quali giovedì 10 10 13 E' il 2013 qui Beh Cambiamo Hey Courtney Ciao Max No photos please E' tu ciao No lo so Ok Qualcosa di interessante Può accadere Di ciao Di ciao Hai detto ciao Almeno vediamo Cioè Vi facciamo vedere Che sappiamo le cose del Vortex Club No Quindi siamo nella lista della festa Grazie Courtney Abbiamo fatto una cosa importante Ragazzi Abbiamo fatto una cosa importante Oddio Il paura Che vuole questo Che vuole questo C'è tra Kate Eh infatti Infatti Questo è sicuro Questo è sicuro Vabbè Vabbè Strano Ehi bellezza Si dà un science Perché Sono del laboratorio Schiffi Adesso Non sono mica Il micio Di Scrodinger Ci sentiamo Ok ok Dobbiamo anche finire Di leggere In effetti Lo leggeremo Lo leggeremo Intanto andiamo avanti Con la storia Che cosa Non so se Per andare qua Forse Alla professoressa Eccolo 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 Voglio essere Magari Non so Complice Per comunque Appoggiare Quel coso La sicurezza Non mi interessa Non mi interessa Niente Baciamo Hai ragione Comunque Giusto Vabbè Vabbè Va bene Ciao Mi piace questa prof Da un senato Di sicurezza A Warren Sperate La tirata A Clinton A che ci interessa Non mi ho idea Di queste cose Non mi ho idea Oddio Oddio Povera Niente Oddio Quindi dobbiamo andare Di posassio Diciamo Diciamo Deve funzionare Per forza Oh mio dio Ok L'ho visto Brucca Qua qua Esperimento Diciamo Diciamo Esperimento Drono Parliamo Di Buono Parliamo Di Ragazzi Parliamo Io Così Da Diciamo Un Presto Direto Non so La peratura A caso ok Brooke vabbè andiamo non so in classe nostra credo non so se è questa oh Kate no non ti lascio per niente in pace oddio Kate ma sono tua amica non posso lasciarti in pace no annaggia non posso uscire vabbè allora andiamo a chiedere al professor Jefferson magari ci sa dire che cosa è successo ma perché che gli ha fatto mio dio non è non c'è di parlare di questo non importa non dobbiamo parlare con lui secondo me cioè noi ci dobbiamo configare sono problemi nostri e di Kate e del capo della sicurezza basta tutti sanno ma Kate sicuramente nulla ha fatto apposta ok no cioè dubita di Kate diciamo la verità non ora oh sì ho voglia se ci sono delle cose intorno diciamo ok mi sentiamo la conversazione mi sentiamo la conversazione oh foto foto volevo parlare un po' con tutti ho visto che là possiamo anche parlare con quello quindi vabbè ok però qua ho visto il disegno troppo bello col disegno mi raccomando sì addirittura che no 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 quindi è è che è è che è è sono è è è Ma chi vuoi un deficiente? Eh brava Così si dice Prepariamoci per la lezione Tranquilli per conto nostro È un maniac È uno stalker Perché lo fa? Ma perché che povera Kate Potrebbe uscire No vero Non posso fare anche un cavolo Non posso fare niente Ah Warren Guarda come cammina tipo tutto Proprio fiero C'era 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 Ah credo così si si è Yes Sì Scusa Professore Massor Che cosa? Tanto Chloe ci ha scritto un segno Cioè ha scritto un messaggio Che problema hai? Vabbè Secondo me tutti Una volta nella sua vita Che hanno fatto sti rovi Siamo il telefono Che cosa? Max La boss con la pistola Sposami Non è legato nell'oregon Per ora Ah Fa la cacca Schiappiamo Ok Non si è neanche accorto Che stiamo usando il telefono A meno che Non si possa fare Diciamo Oddio Basta Madonna Ce l'ha con noi C'è paura Che... Che è successo? Ma cosa? Forse ho capito Kate No, Kate Kate Cioè, devo farlo tutte le volte Per salvare... No, no, anche il naso, basta, no No, no Come faccio a salvarla così? Sì Ma che è successo? Avevo tipo fermato il tempo No No, raga Non può morire, sbrigiamoci Oddio, guarda sto Brutto Deficiente Oddio Oddio, dai ragazzi La dobbiamo salvare ragazzi La dobbiamo salvare Diciamo che comunque è la migliore amica di Max È così È così fragile Sbrigati però Brutta Sbrigati a... A fermarla No Non può funzionare adesso, ragazzi Come una vera Come una vera persona Se non avevamo quel potere, ragazzi Sarebbe morta Sarebbe già morta E anche Chloe Sarebbe già morta È importante È importante Non parlare E' quando ho bisogno di parlare Era insilenzioso Chi è che non ha mai seguito il telefono perché era insilenzioso? Giusto? Non ho deciso Non ho bisogno di rispondere I need you to answer, Max Everybody thinks of a viral Sappiamo che dovevo rispondere Per un'altra Già Certo Mentre hai solo il tuo amico e il tuo famiglio che ti ti ama Kate Per favore mi Come stand by me, ok? I can help you now I know I can This morning I erased the web link to the video I was written on the shower room mirror That's your story now senza provi non possiamo di certo beh ancora non avevo niente però mio cuore respira e andiamo via non possiamo dire di certo si forte perché non lei non è forte a quanto pare non lo so ho tuo padre vedi ragiona ragiona come se uscire è un peccato no 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 quindi non possiamo fare niente no 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 but there must be a reason for every we need to find out why kate marsh would be driven to such desperate action as principal of blackwell academy I take my duty seriously I take the well-being of every student more seriously what happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge Mr. Madsen raga io sarei tentata a chiudere il gioco a tornare indietro perché ci sono altre soluzioni però non è così che non voglio cambiare la storia no 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 perché ci andrano a salvarla era cavolo ero l'unica oddio raga tutte di queste tre cose sono diciamo vere raga io direi di vederle nel prossimo episodio lo so che vi trattengo fortemente però abbiamo superato i venti minuti di registrazione non voglio fare troppo veramente se no ci metto un casino subito di questo episodio tranquilli vi faccio uscire l'altro in modo che non vi perdete niente quindi appunto faccio questo episodio lo faccio dopo c'è dopo questo episodio ne registro un altro in modo che vedete subito l'episodio di life is strange e vi porto due episodi di fila però ragazzi devo chiudere io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio lasciate mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti iscriviti al canale